Non si può prescindere dalla sicurezza del sistema paese se questi tre nodi, singolo individuo, azienda pubblica o privata e istituzioni non sono interconnesse tra di loro. Questo è il sistema paese, quindi dobbiamo alzare il livello della coscienza e della diffusione della cultura della sicurezza. Prego Alberto. Grazie mille, grazie Angelo per avermi invitato a partecipare a questo convegno molto interessante. Io sono sempre contento di prendere parte a queste iniziative dove si parla e si dibatte del tema della sicurezza, credo che ce ne sia davvero bisogno. Io mi chiamo appunto Alberto Mattia, Mattia è il cognome, così do subito un primo chiarimento che sarà sicuramente molto richiesto. Sono qui oggi in qualità di BCI Italy Forum Board Member. Il BCI Italy Forum altro non è che il network italiano di professionisti affiliati al Business Continuity Institute, che è l'ente di riferimento a livello globale in materia appunto di continuità e di resilienza, poi ne parlerò nel corso della mia presentazione. Dicevo appunto, molto importante secondo me fare cultura sul tema della sicurezza, anche perché, come diceva Angelo nell'introduzione, troppo spesso io mi sono, diciamo, sono capitato in dibattiti che reputo allucinanti sul tema della sicurezza, che molto spesso viene definito di destra, piuttosto che sulla sicurezza in qualche modo che viene sempre vista con il dualismo tra razzismo e buonismo, quando in realtà poi ci si dimentica sempre l'elemento fondamentale, che alla fine è il buonsenso, che ci impone di considerare la sicurezza innanzitutto come un diritto, e il desiderio di sicurezza come un diritto comune. Per cui, in Italia, devo dire che abbiamo ampi margini di miglioramento, le presentazioni che mi hanno preceduto, insomma, dei relatori che mi hanno preceduto lo dimostrano piuttosto chiaramente. Io onestamente pensavo di aver preparato un intervento abbastanza duro e forte, poi a vedere, insomma, Umberto Saccone e a sentire l'incipit di Angelo, probabilmente io sarò al lato ottimista di questa presentazione, però, diciamo, l'obiettivo di oggi, secondo me, è quello di condividere con voi una sorta di sentimento di angoscia, che come professionista che si occupa di queste tematiche, vivo, insomma, un po' questo disagio, e cercare però anche di capire quanto di buono è stato fatto e, diciamo, qual è, secondo me, il sentiero un po' da seguire per, come diceva Angelo, un po' migliorare il sistema paese e portarla a un livello superiore. Allora, l'ingegnere Luisa Franchina giustamente ha parlato delle infrastrutture critiche. Io in questa slide ho cercato di semplificare, di parlare di quelli che sono un po' i servizi essenziali. Tutti i sistemi paese, in realtà non solo il nostro, si fondano, io l'ho semplificato veramente molto, però ho cercato di razionalizzare i servizi essenziali in questi otto settori, che sono l'energia, le telecomunicazioni, l'acqua, l'agricoltura, il sistema sanitario, i trasporti, la finanza e, infine, appunto, anche la sicurezza. La domanda e la riflessione che vi propongo oggi è che cosa succederebbe se si verificasse un'interruzione su vasta scala in uno o in più di questi settori. Allora, qualcuno di voi potrebbe dire perché dovrebbe succedere, stai gufando per utilizzare un termine molto caro al dibattito politico ultimamente. In realtà io non sto gufando e queste interruzioni in parte si sono già verificate. Per citare, ad esempio, un evento che soprattutto all'estero è stato percepito come particolarmente degno di nota e interessante, al punto di essere considerato ormai oggi un caso di studio, vi cito il blackout del sistema elettrico italiano del 2003. In particolare, se vi ricordate, è successo di notte, a Roma era la notte bianca, nello specifico, per cui worst case scenario, e c'è stato un blackout del sistema elettrico dovuto, a quanto pare, alla caduta di un albero su un traliccio dell'alta tensione in Svizzera. Per cui un evento così apparentemente banale, che ha determinato un incidente che, se vogliamo, potremmo considerare minimo, ha determinato appunto il blackout del sistema elettrico italiano al punto che tutto il nord Italia è stato per tre o quattro ore addirittura senza elettricità e nel centro-sud addirittura si è sfiorata l'interruzione di quasi 24 ore. Questo, nel gergo di chi si occupa di continuità operativa, altro non è che un banalissimo singolo punto di cedimento, è un qualcosa di estremamente facile, in qualche modo, da identificare con un'analisi del minaccio molto semplice. Altro evento arcinoto è il terremoto dell'Aquila, uno dei primi palazzi che all'Aquila è crollato è stato il palazzo della prefettura. Ora, io non è che voglia parlare necessariamente male delle istituzioni, anzi, però è vero che nelle istituzioni ci sono delle persone che si impegnano moltissimo e sicuramente abbiamo anche raggiunto un buon livello nella reazione a queste emergenze. Però spostare il focus sulla prevenzione e sulla preparazione vuol dire anche capire che i primi palazzi da proteggere dovrebbero essere proprio quelli da cui, in qualche modo, coordinare la reazione all'emergenza. Il palazzo, peraltro, della prefettura è stato evacuato, prima del crollo, fortunatamente non ci sono state perdite umane in quel palazzo, però sappiamo che cosa è successo invece alla casa dello studente, sempre all'Aquila, dove sono morti diversi ragazzi. Altro caso, direi tipicamente italiano, è stato il blackout del Cadore nel 2013, un evento assolutamente imprevedibile, visto il periodo, insomma, ha nevicato in Cadore tra Natale e Capodanno. Questa cosa ci ha presa totalmente alla sprovvista, addirittura la stampa italiana in qualche modo ha dato il meglio di sé con articoli di inchiesta piuttosto duri sulle vacanze dei VIP a Cortina rovinate dal blackout e le cene a lume di candela con addirittura i VIP che si interrogavano tra chi faceva polemica e chi diceva ma vabbè torniamo agli anni 50, che problema è? Un po' di romanticismo. Peccato che nessuno ha fatto notare il danno economico che stava dietro a una crisi di questo tipo. Il Cadore è una delle aree comunque più produttive d'Italia, in particolare tra Natale e Capodanno è quello che sempre in gergo della continuità operativa viene definito il worst case scenario, cioè quando proprio non deve capitare, ti capita un'interruzione di questo tipo, 50 ore di blackout significa che il Cadore ha perso gran parte del proprio PIL annuale, diciamo appunto in un evento di questo tipo. Altre cose, nel 2014 c'è stato un blackout piuttosto disfuso del network Wind Infostrada, che se vi ricordate per circa un giorno non ha funzionato e anche qui i danni economici sono stati abbastanza incalcolabili. Pensate a tutte le persone, tutti i privati o anche i commercianti che in qualche modo utilizzavano Wind Infostrada, come ADSL, non hanno potuto lavorare a essere presenti in rete. Nel 2014, era tre anni fa, per cui non era un'era geologica fa, sicuramente i volumi su internet erano inferiori, adesso sarebbe anche peggio. Però io ho un amico ad esempio che aveva un ristorante, molto banalmente diceva che gli erano saltate tutte le prenotazioni e nessuno riusciva anche a chiamarlo sul telefono fisso, per cui era un venerdì sera, peraltro se non sbaglio, se non ricordo male, e quindi ha determinato un danno economico piuttosto importante. Un altro caso tipicamente italiano di eccellenza, tra virgolette, è stato l'incendio al Terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino. Addirittura pare che sia stato un pinguino, quindi uno di quei sistemi di raffreddamento molto basic, che attaccati da un operaio che aveva caldo, era un'area appunto sottoposta a una ristrutturazione, ha di fatto mandato a fuoco per il mancato funzionamento dei sistemi di emergenza, il Terminal 3 che era il Terminal degli Scali Internazionali. Questo evento, che in qualche modo ci ha tenuti impegnati a livello mediatico per due o tre giorni, tempo di spegnere l'incendio, di capire che non si erano verificati perdite umane gravi, che non c'era appunto un attentato terroristico, come inizialmente le immagini in qualche modo lasciavano presupporre. In realtà ha determinato anche qui un danno economico piuttosto grave, un danno di immagine soprattutto, e un danno di efficienza operativa, perché comunque se parlate con le aziende, alcune molto grandi naturalmente, che hanno la sede all'interno del Comune di Roma o comunque nei dintorni di Roma, raggiungere le sedi per i dipendenti è stato molto difficile, perché appunto il raccordo anulare è stato per diverso tempo, posto che la situazione non è che sia mai particolarmente facile sul raccordo anulare, però voglio dire non è stata proprio ideale. Altra cosa appunto, evento più recente, io ho citato la crisi idrica in Sicilia a causa della siccità, anche questo è un tema che in qualche modo riguarda il settore agricoltura, con danni ingentissimi al settore, addirittura a Palermo si sono inventati, sono stati costretti a inventarsi l'acqua a giorni alterni, dopo le targhe alterne siamo arrivati all'acqua a giorni alterni, tutte queste situazioni in qualche modo sono situazioni che noi identifichiamo come crisi, quindi eventi gravi, ma non solo. Se vogliamo dare una definizione non convenzionale di crisi, a me piace molto utilizzare questa definizione coniata dal professor Mitroff, che è un po' considerato il padre delle metodologie di gestione della crisi, è un professore americano che insegna anche a Berkeley. Lui dice appunto, definisce la crisi come un evento grave che sconvolge le nostre precedenti convinzioni. Quindi un qualcosa non solo di grave, insomma di grande portata, ma anche che in qualche modo ci fa riconsiderare quello che originariamente potevamo pensare non succederà mai. L'11 settembre perché la madre è considerata un po' la madre di tutte le crisi? Perché fino all'11 settembre del 2001, chi poteva immaginare a un attentato di questa gravità, di questa portata nel cuore di New York, da parte di terroristi, di matrice appunto islamista, erano generalmente degli eventi che si verificavano per lo più nel Nord Africa, nel territorio medio orientale, insomma in aree già calde da questo punto di vista. L'11 settembre ha un po' sconvolto tutte queste precedenti convinzioni, oggi noi sappiamo perfettamente, diamo assolutamente per scontato, che per andare a prendere un aereo dobbiamo fare determinati tipi di controlli di sicurezza, più o meno gli stessi che abbiamo fatto oggi per entrare qui dentro in questa sala. La mia generazione, io sono dell'88-29 anni, e la mia generazione probabilmente è l'ultima che si ricorda come era volare prima dell'11 settembre del 2001. Probabilmente anche voi, anche chi è più grande di me, si è dimenticato e in qualche modo ora considera naturali tutti questi controlli che ci sono, ma prima non c'erano. Per cui questa crisi ha profondamente cambiato il modo di intendere la sicurezza. Oggi però appunto, nell'ambito della sicurezza, vorrei parlarvi della continuità e della resilienza. Perché? Perché ogni crisi comporta delle interruzioni che comportano a loro volta, scusate il gioco di parole, determinati costi. In particolare io qui ho citato sei eventi critici, particolarmente gravi e piuttosto conosciuti, e ho messo in relazione con dei dati presi da internet, non saranno perfettamente accurati, però insomma vanno benissimo ai fini di quello che voglio dimostrare, che parlano appunto di vite, quindi perdite umane, e di perdite economiche in relazione a una crisi. Allora, se voi guardate il terremoto dell'Aquila, ad esempio, ha avuto oltre 300 vittime, quindi naturalmente l'aspetto relativo alle perdite umane è sempre quello più importante, però ha avuto un impatto economico relativamente contenuto rispetto ad esempio se guardiamo il terremoto dell'Emilia-Romagna, che non è stato ugualmente drammatico in termini di vittime, anche se comunque ci sono stati oltre 20 morti, e naturalmente anche quando c'è un solo morto il dramma è il dramma, però ha determinato maggiori perdite economiche, questo perché? Perché è brutto da dire, però l'Emilia-Romagna è un tessuto decisamente più produttivo rispetto a quello che è il territorio dell'Aquila, in particolare appunto la regione dell'Abruzzo. Quindi anche proteggere la nostra economia, cioè se non riusciamo a essere sensibili alle vite umane, proviamo a ragionare sul portafoglio. Questi sono i danni che ha causato il terremoto del centro Italia, 23 miliardi di euro di perdite, addirittura se guardate l'attacco al World Trade Center, 40 miliardi di dollari, nel 2001 il maremoto in Giappone che appunto ha scatenato anche l'incendio, quindi il disastro alla centrale di Fukushima, si stima che abbia creato danni per oltre 360 miliardi di dollari. Ecco, è ovvio ed è logico pensare che di fronte a crisi di questa portata non si possa pensare di eliminare il rischio o eliminare completamente tutte le perdite. Però se in qualche modo riusciamo a prepararci meglio e ad adottare dei programmi di prevenzione e di preparazione alla reazione a un evento critico, sicuramente riusciamo a recuperare tanti soldi e soprattutto evitare tante vittime. Cito poi inoltre queste statistiche che sono state recuperate da un video del Business Continuity Institute che reputo molto interessanti per farvi capire che queste sono cose che stanno in realtà già succedendo. Non sto parlando di eventi aleatori che potrebbero succedere. Il 25% delle organizzazioni non riesce più a riaprire a seguito di un evento catastrofico. L'80% delle attività rischia addirittura di uscire dal mercato come conseguenza di una crisi e il 75% delle organizzazioni senza un programma di Business Continuity in italiano Continuity Operativa fallisce entro tre anni da un disastro. Ora, non so se qualcuno di voi si ricorda la storia del pastificio Rummo nel Beneventano che è stato colpito da una pesante alluvione credo un paio di anni fa se non ricordo male. Allora, la cosa molto importante da capire è che a seguito di un evento critico di grandi proporzioni molto spesso si genera l'empatia da parte del pubblico. Quindi, nel caso del pastificio Rummo lo cito perché molti social network hanno scatenato questa gara di solidarietà assolutamente meritoria con l'hashtag Save Rummo per salvare appunto il pastificio Rummo che è un pastificio storico. Quello che però succede a molte aziende magari non così radicate sul territorio o non così di eccellenza come effettivamente è Rummo non riescono a generare questa empatia e quindi l'empatia che si crea è sempre a tempo è sempre molto e diciamo svanisce in breve tempo ci dimentichiamo è cinico da dire è brutto da dire ma ci dimentichiamo veramente di quelli che sono le crisi di quelli che sono gli impatti derivanti anche gli impatti emotivi derivanti da un evento critico. Per cui molto spesso le organizzazioni falliscono a distanza. Noi ora non sappiamo che cosa succederà alla British Petroleum faccio un esempio. La British Petroleum ha provocato quello che è il più grande disastro naturale della storia moderna nel Golfo del Messico. chiaramente insomma è stata nell'occhio del ciclone però quasi diciamo pur essendo mediaticamente sotto attacco la British Petroleum aveva comunque una sorta di empatia da parte del pubblico si generava attenzione per cui avevano questa attenzione riuscivano a incanalarla verso il fatto stiamo lavorando per trovare una soluzione bene o male poi vabbè non entro nel merito perché ci sarebbe da parlarne per settimane però al di là di questo insomma hanno avuto delle multe molto salate naturalmente da parte del governo americano vedremo se tra qualche anno British Petroleum sarà ancora sul mercato se cambierà nome se verrà acquisita da qualche altra società avere continuità e resilienza come dicevo prima è un diritto questo ce lo spiega molto bene Maslow psicologo americano del 1900 lo conoscerete tutti che ha cognato un po' questa piramide dei bisogni e in particolare io ritengo che continuità e resilienza si collochino all'interno del diciamo della categoria dei bisogni di sicurezza noi siamo qua oggi a parlare di sicurezza del sistema paese e io nello specifico di continuità e resilienza del sistema paese questa è la dimostrazione a fronte delle crisi a fronte dei costi derivanti da una crisi che la sicurezza che la continuità che la resilienza devono essere un diritto devono essere un diritto comune che cosa in particolare intendiamo per continuità operativa e resilienza organizzativa non voglio scendere nel tecnico però perdonatemi cito le due definizioni degli standard internazionali per continuità operativa si intende capacità di continuare a erogare prodotti o servizi a livelli predefiniti accettabili a seguito di un incidente semplice non è niente di complesso resilienza organizzativa in particolare ha invece la capacità di un'organizzazione di assorbire gli shock e di adattarsi a un contesto in continua evoluzione ecco domanda queste organizzazioni secondo voi sono resilienti? spero che la domanda sia retorica ovviamente è no perché Blockbuster non ha in qualche modo saputo interpretare l'innovazione del mercato non ha saputo adattarsi al cambiamento resilienza organizzativa non ha saputo assorbire lo shock di un'evoluzione tecnologica che ha profondamente cambiato il modello di business liman bravers va bene anche stiamo a parlarne motorola idem più o meno quello di Blockbuster kodak polaroid blackberry nokia ecco nokia è stata allo stesso tempo un'azienda che ha molto ben interpretato il concetto di resilienza per poi purtroppo dimenticarsene negli anni a venire nel senso che se qualcuno di voi conosce la storia di nokia nokia è un'azienda che all'inizio produceva diciamo legname tendenzialmente e quando ha capito che gli lasciavano di sboscare il mondo intero doveva in qualche modo evolvere il modello di business loro erano molto bravi a coordinarsi nelle comunicazioni perché il loro lavoro lo richiedeva diciamo nel andare a reperire il legno e lavorarlo per cui si sono inventati lo slogan connecting people hanno iniziato a lavorare pian piano sul nuovo modello di business sono diventati un colosso della telefonia fino a che sono arrivati gli smartphone loro non sono stati in grado di interpretare questa innovazione un po' come blockbuster con il mercato appunto di DVD e dei film in generale e sono usciti un po' dal mercato detto questo e diciamo fatta un po' questa introduzione generale qual è lo stato dell'arte del nostro sistema paese bene allora lo stato dell'arte del nostro sistema paese secondo me è abbastanza drammatico nel senso che io molto spesso mi trovo a lavorare per la tipologia appunto di lavoro e di ruolo che ricopro con aziende che si approcciano a questa tematica adesso e non sono mai aziende spinte dall'imposizione normativa Umberto Saccone giustamente prima ha parlato della sicurezza del testo unico 81 del decreto legislativo 231 di codice penale insomma ci sono leggi che giustamente in qualche modo mettono i manager delle aziende nella posizione di essere appunto giudicabili sul codice penale se succede qualcosa ai propri dipendenti in viaggio per questioni di sicurezza purtroppo quando si parla di continuità e di resilienza e abbiamo visto i danni che questa discontinuità e questa mancanza di resilienza crea non ci sono delle leggi specifiche per cui c'è un gap normativo i servizi essenziali quindi le categorie di cui ho parlato prima e in particolare anche le pubbliche amministrazioni non hanno un obbligo specifico di continuità operativa ora io in questi giorni leggo sui giornali che ci sarebbe a quanto pare un'iniziativa legislativa per far imparare l'inglese ai pizzaioli l'ho preso dalle iene però purtroppo le pubbliche amministrazioni ad esempio non hanno alcun obbligo di garantirmi continuità operativa cioè io a me è capitato due volte ad esempio di fare una denuncia per lo smarrimento di una di una carta di credito per la clonazione di una carta di credito arrivi e i carabinieri non c'è il personale non funzionano i sistemi le denunce non le possiamo fare code chilometriche eccetera eccetera questi sono danni chiaramente microscopici però che a livello aggregato e soprattutto quando ci sono poi eventi molto più seri della clonazione della mia carta di credito naturalmente creano un danno al sistema paese molto grosso quando si parla di mancanza di continuità operativa delle pubbliche amministrazioni si parla di ad esempio cimiteri che non funzionano a seguito del terremoto dell'Emilia Romagna cioè la gente che non riusciva a seppellire neanche i propri cari quindi problemi anche da un punto di vista sanitario sociale psicologico molto forti si parla insomma di eventi molto gravi un altro settore che in qualche modo appunto rientra nella categoria servizi essenziali sono ad esempio le banche ecco le banche hanno una circolare numero 285 di Banca d'Italia che in particolare al titolo quarto capitolo 5 dà dei requisiti agli istituti bancari sulla continuità operativa io qua nella presentazione ho scritto è scritta piuttosto male perché è scritta da qualcuno che neanche sia degnato di guardare su Google che cosa fosse la continuità operativa non ci stava nella slide però è scritta veramente molto molto male e noi come BCI Italy Forum stiamo cercando di sensibilizzare le banche devo dire con ottimi risultati perché molti business continuity manager del settore bancario partecipano alle nostre riunioni e stanno iniziando a capire che la continuità operativa deve essere fatta primo per l'azienda a prescindere diciamo dall'imposizione normativa e secondo però che in qualche modo la Banca d'Italia come regulator dovrebbe agevolare l'adozione di principi corretti cioè per come è scritta ora la circolare 285 di Banca d'Italia non aiuta minimamente le banche a programmare la continuità operativa cioè dice ad esempio di scrivere dei piani ma non parla delle analisi che portano alla scrittura di questi piani le analisi come dicevo prima ad esempio un'analisi delle minacce tese a individuare i singoli punti di cedimento se uno scrive un piano senza fare un'analisi per vedere quali sono i propri singoli punti di cedimento rischia di fare tanta carta che serve poi solamente agli auditor per fare le pulci perdere un sacco di tempo di soldi per la banca e di fatto non garantire minimamente i clienti o comunque in generale gli stakeholder ora il gap normativo a mio parere è semplicemente una conseguenza di quello che è il gap culturale nelle università non si parla mai di queste tematiche ora io sono uscito dall'università relativamente da pochi anni e non ho mai fatto io ho fatto economia e finanza non ho fatto altre cose insomma ho fatto un corso di laurea abbastanza comune e non ho mai parlato di business continuity o comunque in generale di sicurezza qualcosina sulla gestione del rischio però proprio poco la classe dirigente è sempre poco sensibile al problema i professionisti non vengono adeguatamente formati ci sono professionisti in Italia business continuity manager che non conoscono gli standard internazionali che per farvi un paragone è un po' come se un pilota d'aereo non sapesse a che cosa servono quelle due protuberanze ai lati della carlinga i professionisti appunto non vengono adeguatamente formati non c'è mai una cultura orientata alla prevenzione questo perché perché tu Angelo lo dicevi prima si parla tanto di costi della sicurezza e non di investimenti finché i manager hanno mandati a due anni tre anni l'obiettivo è quello di tagliare i costi sperare che non succeda niente non spendere non rendere sostenibile il business il modello di business prima ancora del business tutto questo in qualche modo comporta il fatto che le organizzazioni non investono in continuità in resilienza noi come BCI Italy Forum sosteniamo tantissimo l'adozione degli standard internazionali io qua ne ho citati due per esigenze di brevità ce ne sono veramente molti altri però anche la banca d'Italia che scrive la circolare 285 e non fa un riferimento allo standard internazionale che è uno standard ISO pienamente riconosciuto adottato dal paese Italia è ridicolo cioè non serve inventarsi nulla fate riferimenti agli standard che già ci sono la ISO 22301 in particolare è lo standard relativo alla continuità operativa la ISO 22316 è lo standard relativo alla resilienza organizzativa il Business Continuity Institute in particolare si è dato una missione e noi in qualche modo per l'Italia come BCI Italy Forum abbiamo un po' calato sulla realtà locale questa missione la mission del BCI è promuovere un mondo più resiliente essere visto un po' come l'associazione professionale di riferimento per i professionisti del settore noi in Italia stiamo cercando di promuovere un'Italia più resiliente il motivo per cui siamo venuti in contatto appunto con Angelo diversi mesi fa è quello di provare a proporre magari un'iniziativa legislativa in favore della continuità e della resilienza vogliamo come BCI Italy Forum continuare a lavorare e continuare a raggiungere tutti i professionisti di continuità resilienza sicurezza quindi se tra i dati voi immagino che ce ne siano in sala guardate il sito del Business Continuity Institute poi ci sono appunto i link all'interno della presentazione il BCI è un network globale conta oltre 8000 membri nel mondo in oltre 100 paesi e addirittura conta la partnership di più di 3000 organizzazioni ora per darvi un'idea noi siamo partiti come BCI Italy Forum nel 2014 e io e Gianna Dettoni che è BCI Italy Forum leader andiamo nel 2014 alla World Conference a Londra del Business Continuity Institute c'è una cena di gala e capitiamo al tavolo del leader del BCI Forum di Trinidad e Tobago paesino caraibico aveva più membri certificati dell'Italia tre anni fa quindi noi con immensa vergogna abbiamo detto questa cosa non può essere non può succedere ci siamo messi a lavorare con l'aiuto poi di altri professionisti che naturalmente hanno condiviso la nostra missione qua oggi c'è Laura Zarrillo che saluto abbiamo creato un board abbiamo creato una serie di attività e abbiamo creato un network molto attivo nel cercare di diffondere la cultura di continuità di resilienza l'anno scorso abbiamo creato un gruppo di LinkedIn che oggi conta oltre a 520 membri Pantarella società che dirigo è License Training Partner del Business Continuity Institute quindi certifichiamo i professionisti in continuità operativa abbiamo certificato oltre a 120 persone negli ultimi 4 anni appunto organizziamo eventi tematici ogni gratuiti ogni 2 mesi e stiamo cercando di portare a bordo sempre più persone questo è l'elenco il calendario diciamo degli eventi il prossimo sarà il 18 maggio gli eventi sono sempre a Milano cerchiamo comunque sempre di fare appunto un collegamento in streaming con mezzi decisamente inferiori a quelli che avete qua però ci proviamo con quello che possiamo e vi invito quindi a partecipare io spero di aver condiviso con voi l'importanza di questa di questa materia il perché sia importante ingaggiarsi e ribadisco io credo fermamente che il problema culturale parte innanzitutto da noi cioè noi siamo professionisti che ci occupiamo di security prima ancora di criticare gli altri dobbiamo farci un esame di coscienza e capire come noi comunichiamo perché non riusciamo a far capire l'importanza di questa materia e soprattutto cercare appunto di portare sempre più manager a preoccuparsi di queste tematiche per la loro resilienza per la loro profittabilità se capiscono questo termine e quindi vi ringrazio grazie